Chi dice che a Poveglia si costruirà solo un albergo di lusso si sbaglia. Luigi Brugnaro taglia corto e apre la porta al Comune di Venezia e al Comitato Poveglia per Tutti annunciando il suo progetto per l'isola veneziana, dopo essersi aggiudicato con un'offerta di 513.000 euro l'asta per l'assegnazione di questo misterioso lembo di terra a sud della costa di Venezia, lungo il canal Orfano, dove si affollano leggende e misteri. L'oggetto della vendita in realtà sono tre isole molto vicine l'una all'altra e collegate da ponticelli, di cui la più famosa è l'ottagono di Poveglia, così chiamata per la sua forma ottagonale, forse in passato usata come fortificazione militare. Poveglia fu uno dei più primordiali insediamenti della laguna veneziana, nel tempo ci furono anche un monastero, un cantiere navale e un lazaretto. Oggi ci sono solo alcuni vecchi edifici, padiglioni e ospedalieri che risalgano la prima metà del Novecento e sui quali ci sono vincoli imposti da tre sovrintendenze. Secondo Brugnaro, per sistemare i 18 edifici esistenti serviranno almeno 20 milioni di euro e il progetto dovrà essere realizzato in tempi certi, pena l'invalidamento. Per questo appunto il patron della Reiere, presidente dell'Umana Holding, punta sul coinvolgimento del Comitato e della città di Venezia. Ma il sindaco Orsoni sembra essere di diverso avviso. Il Comune, pure in bolletta, pare intenzionato ad esercitare il suo diritto di prelazione sull'isola e per farlo ha a disposizione due strade. O trova una cifra di poco superiore al mezzo milione di euro nei suoi magri bilanci o chiede di invalidare l'asta per incongruità dell'offerta e punta sul federalismo demaniale. All'Agenzia del Demanio giace già una richiesta di trasferimento dell'isola al Comune a titolo gratuito e a quel punto Orsoni potrebbe pensare di affidarne la gestione al Comitato cittadino. Insomma, sul destino di quest'isola della lunga storia c'è ancora molto da scrivere.